Capo! Come senti il capo? Capo è bambolato! Scrive alle fili! Oh! Oh! Scrive alle fili! Oh! Scrive alle fili! Scrive alle fili! Che impegnato! Adesso sono un sex coach e non ho un coach con i bimbi 18 anni in un anno 20.000 muscoli e 20 anni anche 5 mesi ho fatto Meno 5 Meno 5 Questo sai perché? Perché non hai un petto spallettrici Diciamolo bene in camera Un petto spallettrici va fatto almeno 3 volte a settimana Sì, una volta di partire dalle spalle poi fare il petto e alla fine un esercizio poi spalle poi un esercizio e poi fare il petto spalle Meno stiamo scherzando Qui c'è tutto grande che push dei buttati a cazzosi Il petto da sole che pare essere anche un asia infortunato Spalle da sole Tutto bla 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 Vai! Bravo! Oh no Ho È È È È È Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Stai più giù, stai più giù, stai più giù, 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 lì, lì, gli spari, bravo, così, bravo Diego, dai, forse. Stai giù, stai giù, stai giù, stai giù, lì, ok, bravo, quello, bravo, vai. Stai giù, stai giù, stai giù. Sarai, giù, stai giù. non mi sapevo non mi sapevo stai più giù, stai più giù, stai più giù e così bravo le due dai su. su, su dai 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 tu sta giù giù, stai giù, stai giù, stai giù, stai giù, proprio che merda se facci io vedo il tuo piccolo sul piccolo ma è sempre lui fa però adesso viene a riuscito a sacco ah ma io non ci ho spinto non posso fare, non posso fare non posso fare, non posso fare trovi devastatori trovi devastatori dai 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 bravo, sei bravo, dai bravo, dai 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 Bene. Viene i beni più vivendo. Vai. Viene. Viene? Viene. Vai. 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 Viene. Vai. E' l'ultimo lì. Grazie. Bravo, dai, 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 forte, su. Bravo. Fala con un po' di contastio, no? Lì. Dai. Dai. Su. Bravo. Dai. Su. Su. Lì. Ok. Apri più, verso dietro, verso dietro. Guarda qua la mano. Non chiudere avanti, chiudi dietro, qui. Lì, bravo. Ok. No. Dai, dai, Diego. Su, forse. Buono, bravo. Buono. Dietro, dietro, chiudi dietro, in fondo. Ok. Vieni, bravo. Buono. 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 Dai. Lì. Buono. Dai Rie Dai Buon Dai Bravo Capo Non senti il capo Il capo è bambolato Scrive alle figlie Oh Oh E come scrive lì Oh Cos'è Scrive alle figlie Scrive alle figlie Che impegnato Adesso è un mestiere ormai Adesso sono Un sex coach E noi non abbiamo ricordato i bambini Quindi Quindi Guarda qui 18 anni In un anno 20 mili muscoli 20 anni anche Se quello Off camera 5 mesi a parte Meno 5 Meno 5 Meno 5 Tutto Con il coach Sì Perché male Ovviamente L'ho preso bene Rimmaginare Stai a suo poco Vogliamo tutto Rimmaginare Di che stai Stai Risposto qui E poi Il discorso è che Diciamolo bene Diciamolo bene in camera Il petto spalle e tricipiti Va fatto almeno Tre volte a settimana Sì Una volta Tieni le spalle Poi fare il petto Una volta Poi il petto Poi spalle Poi un esercizio di tricipiti Poi partire tricipiti Fai il petto e spalle Qui c'è tutto Che push day Che cazzo Così Il petto da sole Che va ad essere Una zia infortunato Spalle da sole E Il resto Poi fare il fatto Tutto Bla bla bla